Gianfranco, voglio chiederti una cosa. Sì, sono collegato. Voglio chiederti di fare una cosa insieme a me, insieme a noi. Sono qua. Se scegli una tua lady, una ragazza, una signora, quello che vuoi, mi piacerebbe che ballassi con noi perché stiamo riproponendo. Preparatevi in studio a casa, un lento incredibile. Ieri è stato super ospite a Sanremo con champagne, Peppino Di Capri. Sì, è stato super ospite a Sanremo. E' stato un invito, stasera si va tutti a casa mia. Così cominciava la festa e già ti girava la testa. Per me non contavano gli altri. Se vuoi, ti accompagno se vuoi. La scusa più banale è rimanere solo io e te. Ma io, io devo festeggiare la fine di un amore. Cameriere. Cameriere. Champagne. La scusa più banale è rimanere solo io e te. La scusa più banale è rimanere solo io e te. Che bello aver omaggiato ballando in diretta champagne di Peppino Di Capri. Devo dire che è stato un momento di condivisione da parte dello studio veramente bellissimo. Nicola.